cosa successe nelle id di marzo del 44 avanti cristo a roma in quella data viene ucciso giugno cesare con 23 coltellate 60 o 80 senatori congiurano contro giugno cesare che quando arriverà in senato verrà coltellato a sangue freddo verrà ucciso e inizierà così una guerra civile tra le persone che avevano appoggiato giugno cesare durante la sua vita e tutte le persone che lo avevano ucciso che lo consideravano un nemico della repubblica ciao al prossimo video vi aspettive ciao 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 ciao